Hai qualche sospetto su chi può aver rubato il pesce? Le faccio vedere la registrazione video della tv a circuito chiuso. Aspetta, torna indietro. Non tu, il videoregistratore. Ecco, io quello l'ho già visto da qualche parte. Anch'io lo conosco, il proprietario del pesce rosso è lui il ladro. Come fa ad essere nello stesso tempo il proprietario ed il ladro? Me l'ha detto il suo psichiatra, c'è una doppia personalità. Allora diffondi subito una foto segnaletica e vediamo di trovarlo il prima possibile, questo disgraziato. Certo, aspetta.